che fanno parte del progetto Damaro Music Lab che è la nostra scuola di musica sono degli allievi, partecipano alle lezioni piuttosto che alla sala prove e sono due gruppi di San Marino e un rapper tutti di San Marino quindi sono scesi da un altro stato, sono venuti qua in Italia avete portato il passaporto, no? vorrei fare un grande applauso in ordine di apparizione per i Five Sides che saliranno adesso, seguiti da The Trick e il Downfall ok, i Five Sides sono alla voce del pianoforte mi hanno dato i nomi d'arte, io li dico così come mi sono stati detto Elia ha detto anche Sbori non c'è nessun tipo di allusione Elia, alla chitarra solista Sfiander alla chitarra ritmica Danaco al basso l'unico bassista serio della band Mirko con il nome serio e la batteria Phil loro sono i Five Sides quindi un grande applauso e ci vediamo qua buonasera a tutti noi siamo i Five Sides come dicevo Donatello il buon Donatello e questo è Somewhere in Neverland che è il nostro singolo 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 And that's a new In my eyes Grazie a tutti Grazie 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 Un po' troppo Su sprazzo Grazie 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 la prossima è la nostra canzone la prossima è la prossima 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 la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima la prossima la próxima 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 la próxima